Ciao ragazzi, sono Mattia Rockgod, ben ritrovati sul canale. In questa recensione vi parlo di Coloring Pixels, un gioco di genere Coloring by Numbers realizzato e pubblicato dai Toastleps nell'agosto 2018. Con più di 5600 recensioni, è uno dei migliori giochi per colorare immagini presenti su un negozio di Valve. Un titolo davvero straordinario che, grazie alla sua natura free-to-play, è riuscita ad attirare diverse persone. Per quanto riguarda il sostentamento, ci sono ovviamente dei DLC, ce ne sono più di 50. Il prossimo, per esempio, esce tra meno di una settimana e aggiungerà ulteriori immagini da colorare. Tanti DLC, vuol dire anche tanti achievement. Al momento della registrazione di questo video, ci sono 1273 achievement e con l'aggiunta dei nuovi disegni, delle nuove immagini, tra meno di una settimana, questi diventeranno 1294. Quindi il numero sarà destinato a salire, perché siccome i Toastleps si sono promessi di rilasciare un DLC ogni mese, il numero di obiettivi sarà destinato ad andare su. Ma io ovviamente lo prendo come una sfida e andrò avanti a colorare le immagini finché riesco. Andiamo ai requisiti. I requisiti del gioco vi sembreranno un pochino elevati, specialmente la RAM, 8GB. Vi posso assicurare e confermare che anche se il mio PC ha la metà della RAM richiesta, il gioco è veramente una scheggia a partire e a funzionare. Nel senso che io non ho mai avuto problemi né a farlo partire né a giocarci con questo titolo, anche se nei requisiti è specificato 8GB di RAM. Io nel mio PC ne ho 4 e il gioco parte con una meraviglia e funziona benissimo, tant'è che non ho avuto problemi né di bug né di crash, quindi non vedo il perché di mettere 8GB, oppure ho chiesto agli sviluppatori perché e mi hanno semplicemente detto che hanno testato il gioco fino a 8GB di RAM, ma se parti anche con 4, nel mio caso, non c'è nessun problema. L'importante è che il gioco funzioni. E così è stato. Andiamo ai DLC. I DLC sono tantissimi, come vedete sono tutti prezzati a 79 centesimi, ce n'è uno gratis che si chiama R Slash Place, che è uno dei pacchetti più bastardi del gioco perché ha tante immagini tutte grandissime, tipo 500x500, dei quadri praticamente, e sarà uno dei pacchetti più complicati da fare. Magari potete iniziare a farlo piano piano intanto vi concentrate su altri disegni. Io ancora non ci sono arrivato perché sto andando molto piano a colorarli perché bisogna avere anche una certa precisione. Tanto non ci sono penalità nel caso facciate qualche errore, però è molto meglio fare le cose con precisione che farle di fretta e male. Lo Steampunk Pack, quello più in alto in queste immagini, c'è scritto che non è disponibile il prezzo perché non è ancora uscito, deve uscire il 20 gennaio. Sarà sicuramente prezzata a 79 centesimi, anche perché è il minimo che Steam mette come regola agli sviluppatori se devono vendere un qualsiasi contenuto. Quindi a meno di quel prezzo non possono mettere il DLC in questo caso. Un'altra immagine di altri DLC, come vedete le tematiche sono delle più varie e un'altra immagine a seguire. Vedete che sono tutti prezzati a 79 centesimi, io li ho presi tutti durante i saldi autunnali, erano scontati a 59 centesimi, quindi ho anche risparmiato un bel po'. Ora vedremo alcune immagini di esempio dei vari disegni appunto che possiamo colorare nel gioco. Questo per esempio è lo Smile, una delle prime immagini che ho colorato e anche uno degli obiettivi più frequentemente sbloccati dalla utenza che conosce questo titolo. Questo per esempio è un pattern e l'ho scaricata da internet questa immagine, non ho fatto lo screenshot dal gioco, per illustrarvi anche la parte bassa dello schermo. Guardate tutti quei quadrati con all'interno un quadrato più piccolo con un numero e un colore identificativo e sopra c'è un rettangolo con un altro numero oppure un tick verde nel caso il colore sia stato sistemato. Il rettangolo con il numero dentro indica quanti quadratini dobbiamo ancora colorare. Poi andiamo a un'altra immagine, ecco questa me la ricorderò finché campo perché è un'immagine dannatamente lunga. Voi direte vista così sembra piccola, no no no, in realtà è un 400x400. Verete anche la lista sotto di colori e anche i rettangoli con i vari numeri, ecco è un'immagine piena zeppa di robe da colorare, quindi ragazzi fate attenzione perché l'immagine potrebbe ingannare ma fidatevi, è un'immagine che frega vista così. Quando la zoomerete dovrete colorare un sacco di roba. Mi ricordo che questa immagine l'ho finita in quattro sessioni, quindi ogni sessione di gioco che ho fatto un 25% lo facevo, ma che corsa che ho fatto per cercare di arrivare al 100 magari ragazzi. Se ci avessi messo di meno, mamma mia, vabbè andiamo avanti. Questo è un esempio di bandiera, c'è anche il successivo esempio perché sto facendo il pacchetto delle bandiere adesso. Questa è la bandiera delle United Nations, vedete a sinistra altri indicatori, l'indicatore 100% è il percentage tab che vi consiglio di attivare nelle impostazioni perché vi permette di tenere traccia del completamento dell'immagine, è molto utile. Poi il tasto del cestino se volete resettare l'immagine da capo, in questo caso appare anche il cuoricino se volete metterla nei preferiti per esempio, ma in realtà appare anche una gomma mentre colorate l'immagine. La gomma serve per cancellare magari degli errori, se per caso con il numero 1 che è il colore azzurro in questo caso siete passati su un quadratino con il numero 2 che in questo caso è il bianco, usate la gomma e cancellate quello che avete sbagliato e poi lo ricolorerete come giusto che sia. Mentre la X serve per tornare al menu principale. Un'altra immagine di esempio, in questo caso la bandiera del Galles, vedete ci sono vari colori, il bianco, il verde, il rosso per il dragone e il nero, vedete, per il contorno dello stesso drago. Quindi ogni immagine ha un numero di colori specifico, è grande un tot di larghezza, altezza, insomma le dimensioni le vedrete poi nelle prossime immagini dove ho fatto degli screen direttamente dal menu principale. In questo caso sulla sinistra abbiamo il logo del gioco, i pacchetti che dobbiamo fare, il tasto exit serve per uscire e tornare a Steam e la rotellina per le impostazioni. Vi consiglio comunque di dare un'occhiata alle impostazioni, non dico ogni volta cambiate il gioco ma almeno al primo avvio fate come me. Andate a dare un'occhiata alle impostazioni perché ce ne sono alcune che dovete ovviamente guardare e magari attivare o disattivare a seconda delle vostre preferenze. In questo caso vedete che la foto è leggermente grigia, sembra quasi un pochino dark perché c'è la dark mode in questo gioco, io l'ho tenuta attivata per tutti gli elementi, quindi anche in questo caso l'immagine del Galles che avete visto prima c'è lo sfondo nero perché si può mettere la dark mode anche durante il coloramento delle immagini, non solo nel menu principale. Oppure solamente ad alcuni elementi, magari appare solo nel menu principale mentre nel coloramento dell'immagine lo sfondo è bianco e l'immagine invece verrà colorata in base ai vostri movimenti. Addirittura c'è tanto di replay, quando avrete colorato un'immagine il gioco vi fornisce una specie di riepilogo di come vi siete mossi e da bianco tornerà colorata. In questo caso il libro bonus c'ha tante immagini, ne abbiamo comunque 4, 5, 6, 8 di esempio, ognuna con un titolo, un'anteprima dell'immagine, la dimensione e da quanti colori è composta. Mentre il tasto open serve per cominciare a colorare. Un'altra schermata in questo caso con alcune immagini del pacchetto tech, un altro esempio con alcune immagini del pacchetto musica. Come vedete le immagini variano in base anche alla dimensione, l'ultima immagine molto probabilmente sarà sempre un'immagine grossa, ok? Per esempio quella audiocassetta che vediamo in alto 59x37, mentre per esempio lo stereo 64x45, vedete che sono già aumentate, oppure l'equalizer 161x92. Quindi le immagini aumentano con il passare dei numeri, cioè mentre colorate l'immagine dopo l'immagine i numeri, quindi le dimensioni aumentano. Anche i colori potrebbero aumentare, ma molto spesso quello di cui vi dovete preoccupare è la dimensione. I colori passano in secondo piano. Ultima immagine per concludere il video è questa, ossia uno screen con i pacchetti che ho finito. In questo momento ho fatto i primi tre book, che sono quelli diciamo che completano la maggior parte delle persone che avviano il gioco per le prime volte, e poi il pacchetto del cibo. Ci doveva essere anche il pacchetto numero uno delle bandiere, ma lo sto finendo adesso, quindi non appare. Nella categoria not owned sarebbero la lista di DLC che non avete con voi, quindi vi appariranno lì. In questo caso la categoria not owned non ce l'ho, perché ce le ho tutti i DLC. Invece la scritta featured, che è apparsa ieri con l'aggiornamento del gioco, praticamente è una lista di DLC che devono arrivare. Infatti il pacchetto steampunk c'è un timer che sta scorrendo all'indietro e quando sarà a zero il DLC sarà disponibile per tutti. Infatti io me lo sono già messo in wishlist da quando è stato annunciato e non vedo l'ora di giocarlo. Bene, e per finire vedete che appunto le immagini in questo caso dico un po' di nomi, Hypnotized, Rainbow Rivers, Psychedelic Pattern, ecco, quelli sono i titoli delle immagini, ma vedete che dietro c'è uno sfondo, ecco, sembra quasi giallino, possiamo dire un giallo un po' particolare, ecco. Quel colore lì vuol dire che l'immagine è stata completata, infatti vedete che nelle immagini di prima erano, sembrano tutte sfumate o sbiadite perché non erano ancora colorate. Adesso che le ho colorate in quest'ulteriore screenshot vuol dire che le ho completate, quindi ti tiene traccia anche visivamente di quello che state facendo o di quello che avete appena finito di fare. Quindi davvero complimenti a questi sviluppatori, davvero mi sta piacendo come stanno lavorando, in realtà il numero spaventoso di obiettivi del gioco un po' ancora mi lascia la preoccupazione, però me ne devo fottere negli obiettivi, cioè io li completo finché riesco, però so già che con l'arrivo di DLC ulteriori il numero di obiettivi andrà ad alzarsi. Come se non ce ne fossero già abbastanza di obiettivi, più di 1200, hanno intenzione di metterne altri, quindi ragazzi è una roba gigantesca, però il gioco è veramente straordinario. Quindi se volete provare questa esperienza e vi piace magari colorare i disegni o siete sempre stati amanti della pittura, allora questo è il gioco che fa per voi. Tecnicamente, ripeto, non ha mai avuto un problema, nessun crash, nessun bug, anche se magari qualche piccolo bug minore c'è, ma magari non l'ho visto io, perché essendomi unito al Discord degli sviluppatori qualcuno ha segnalato qualche bug minore, vediamo se eventualmente verranno fatte delle patch. Però il gioco, a mio parere, è davvero una cosa sensazionale. E anche con qualche magari bug minore che io ripeto non ho visto perché fino adesso non ho trovato bug importanti, quindi nel caso arrivassero delle patch di tipo tecnico, benissimo. Vuol dire che gli sviluppatori ci tengono che il loro gioco sia il più possibile bug free. Il voto per questo gioco? Ovviamente era un voto molto in oscillazione sin dall'inizio, perché comunque ci sono alcune immagini molto lunghe che richiedono più sessioni per essere completate, alcune invece sono molto più veloci, altre invece, come per esempio quelle del pacchetto Hard Place, sono davvero una roba impossibile, solamente da pensare in maniera concettuale. Andate a guardare il pacchetto Hard Place su Steam o comunque cercate il pacchetto Hard Place su Google Immagini, qualcosa dovrebbe venire fuori, ma vi giuro che nel gioco se seleziono il pacchetto Hard Place vi spaventerete all'idea di dover colorare immagini grandi 500x500 e ognuna con 32 colori da usare. Mamma mia! Nel frattempo però guardo gli altri pacchetti, così intanto gli obiettivi iniziano ad alzarsi un po' in numero. Bene ragazzi, allora il voto direi un 8 barra 9 tutto, questo voto è meritatissimo. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi anche su tutti gli altri link in descrizione, attivando anche la campanella e le notifiche dappertutto se non volete perdere tutti i prossimi aggiornamenti, con tanto anche di server Discord e il link di PayPal me nel caso vogliate fare una donazione in supporto del mio canale. E noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi! Grazie a tutti!